Totò di Natale, se ti dico meno 23 cosa mi rispondi? È un brutto numero, sono contento per me ma anche per i miei compagni perché devo ringraziare loro, sono riuscito a fare un obiettivo così importante 300 partite con l'Udinese e più tanti gol, però è stata una bella partita Devo solo lavorare, devo stare bene perché l'età comincia a essere molto perché per 36 anni tra un mese devo lavorare e cercare di fare bene Qua abbiamo Morire, abbiamo tanti giocatori davanti che possono fare tanto bene per l'Udinese No, no, l'età c'è però, ho detto, io mi diverto, devo cercare qui alla fine di fare benissimo perché ci sono tanti attaccanti italiani che possono fare i mondiali Io e mi siamo sempre parlato bene e speriamo di arrivare in fondo di riuscire a fare tanti gol per l'Udinese e poi per arrivare in mondiale Ma io credo che il primo tempo Bologna non ha mai tirato in porto Credo che alla fine noi abbiamo tante occasioni Sono stato anche bravo loro, un po' affortunato che il portiere perché Dulce ogni anno che giochi contro mi fa miracoli però credo che sia una bella partita per noi e anche per Bologna è una bella squadra Le scorie del campionato sono ormai dimenticate, passate? No, è passata, pensiamo sulle campionate e cercare di stare bene tutti No, mi hanno detto che Bologna è venuto qui per mancarci tutti Ci sono messi tutti lì, ho deciso a Natale con un buon difensore Ma un uomo, credo alla fine, però abbiamo tante occasioni perché se non sbloccarmi sul tiro mio, sul tiro di Morire ecco, se non è iniziato subito, dopo sarà anche difficile per loro È andato così, dispiace, andiamo avanti Sarà una grandissima stagione perché ci sono tanti ragazzi nuovi, giovani Quest'anno si è cambiato poco, sono a Benassia Secondo me l'importanza è lavorare e cercare di stare bene tutti perché una volta che non siamo bene fisicamente, mentalmente poi siamo andati nella squadra Grazie